Sì, abbiamo l'obiettivo di fare bene, stasera il campo era un po' pesante, quindi la partita è stata tosta, però piano piano con dei nuovi innessi che ancora devono venire possiamo fare grandi cose. Comunque ci vogliamo tutti bene, l'altro anno eravamo un gruppo unito e c'è solo stata questa scissione calcistica, ma siamo tutti amici comunque.